e snout tre punte allora avendo tre punte la tattica lo uso come semplice se avete un i terzini che sono offensivi li mettiamo difensivi contropiede tutte e due perché non voglio trovarli davanti da solo contro 5 6 persone sto provando iniesta e poi so questo test io mettiamo ederson tutti a tutti a pallina stanno ok avendo tre punte in avanti non ti annoi in attacco perché spesso succede che due attaccanti solo che uno si perde l'altro magari tale esternamente taglia largo e ritrovi sempre da solo contro due tre difensori e non riesci a fare dribbling come in fifa fare miracoli per di palla contropiede ti fa gol perché il mio gioco è questo avendo tre punte vedrete che è molto più semplice in attacco se parte cazzo è questo che squadra è è fornito è fornito dai parti cazzo quella vittoria molto facile questa che ne aveva 700 800 non mi ricordo che sono da 900 euro in giù buonasera da fabio caressa a parte ultimamente che non sono capitale fenomeni anche da 600 ho fatto fatica bene ci siamo calma calma si gioca con calma non si deve inervosire perché se ti inervosisci non vedi il gioco io uso la telecamera dall'alto così vedo tutto il campo perché gioco tantissimo il contropiede dai andiamo facciamoli un gol così non lo mettiamo tranquillo buono d'angelo un passaggio fatto con il contagirio dai nesta cazzo cazzo ti tengo a fare non mi deludere un po' di ritardo che palle mi tocca giocare in anticipo ci mette il fisico e conquista il pallone odio giocare in anticipo non di ritardo dai corri mamma mia mamma mia mamma mia ha spaventato la difesa sì ma non si può fare sempre tutto da soli c'erano buone opzioni di passaggio sì sì ma secondo te scodella craif craif un cazzo non lo so Iniesta sinceramente l'avete detto ci mette il fisico ecco il filipo inzaki si sblocca il risultato avete visto un semplice gol subito un errore del cazzo che non si ha capito che cazzo ha fatto ma che cazzo hanno fatto vediamo non manco capito con il loro pressing alto un gol cercato con la tenaccia questo culpetto casca buono certo va bene ma non ci metriamoci ma diamoci bene visto il castello a mare di stabia si porta in vantaggio 1-0 che cazzo che cazzo palla in profondità per il compagno ecco un'occasione ma dai ma dai ma dai ma che cavolo diritato di merda che ho caputana scusa e a mezz'ora dopo mi rispondi posso capire niente che è handicappato lì ma beh Kim Bauer che cazzo mi fa si è gasato mi ha fatto gol ti provo alla peggio nello scontro di forza Gullit dai Beckham è colpa tua se ho preso gol ti devi far perdonare non me frego di cazzo ottimo il suo senso della posizione bene Roberto Carlos si va certo va va è ritardo che ho guardalo guarda guarda tac mezz'ora dopo ma dai triangolo guarda non va guarda se avvicinò la volta atteggiativo a partire grazie guarda così il ritardo non cazzo ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso albuma 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 non è facile mantenere il sangue freddo ma lui non si fa che ti muore ma vedi avendo un ritardo oh 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 perfetto da ritardo è evidente che si sono adagiati sugli allori ma guardalo ma guardalo ma l'ho visto che era libero è libero ma guardalo ecco un pallone in avanti Roberto Carlos prova con la palla lunga prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Iniesta non lo so che cazzo fare con te Iniesta ma scoltellate con il suo marcatore qui c'è il carattivo ma certo ci prova madonna palo fu ma abbiamo sbagliato ancora il vittoria si propone spesso in avanti in cerca del gol vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano va bene non tiro più entro in porta entro in porta guarda ottimo disupertore entro in porta ho già capito questa qua iniesta certo 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 va bene va bene va bene io lì ti ho detto di darla e Maldini c'è e Maldini c'è e Krijf c'è Ronaldo parte si ferma poi parte cazzo o parti o ti fermi mamma mia Matteus ragazzi Matteus occhio a cross occhio al tiro una porca miseria una porca rubata palla agli avversari sono stati velocissimi a ripartire un contropiede portato in maniera certo 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 io 50 lui una l'arco beh mi sta lagando per questo vaffanculo imprevedibile un contropiede